Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, altro giro, altra corsa, ci ritroviamo con i TOTS di Liga Santander tante belle carte uscite non solo all'interno della squadra ma anche nell'SBC quindi ci andiamo a dare questa bella preview in attesa delle review con il gameplay che usciranno invece nei prossimi giorni una volta che riuscirò a mettere, spero, le mie mani su queste carte e andiamo subito sulla schermata di Footbeam dove ci attende il primo TOTS, ovvero Lionel Messi Messi in questa rinnovata versione attaccante il quale rispetto alla versione TOTI vediamo appunto come primo mutamento proprio quello del ruolo poi abbiamo un più 2 in velocità a favore del TOTI, un più 1 in passaggio a favore del TOTI ma un aumento significativo per quanto riguarda il fisico di fatti quella carta TOTS di Messi riceve un più 7 di jumping, un più 8 di stamina, un più 8 di forza e un più 4 di aggressività quindi tutto sommato, tutta una serie di parametri che diciamo non è che vanno a migliorare di così tanto la qualità della carta visto che insomma il fisico per Messi non è proprio quello che ci interessa maggiormente è un 4-4 ovviamente, un 1,70m, non lo scopriamo di certo oggi così a guardarlo probabilmente questo avrà forse un corso maggiore semplicemente per quello che è il ruolo di fatti maggiormente ibridabile però così STATS alla mano io onestamente vado a preferire quello in versione TOTI viste le STATS che secondo me sono migliori poi probabilmente vedremo di provare anche lui top player inaspettato del team è Rafael Varane Rafael Varane tanto chiacchierato perché in teoria si diceva che non sarebbe uscito invece è proprio qui davanti a noi carta pazzesca ragazzi, hanno fatto una carta praticamente TOTI, non TOTS vediamo che rispetto alla versione 91 della Road to the Final abbiamo un più 4 in velocità, un più 6 di tiro, un più 6 di passaggio un più 5 in dribbling, un più 4 in difesa e un più 4 anche per quanto riguarda le statistiche di fisico in particolare vediamo che arriva addirittura a 88 di accelerazione, a 94 di velocità scatto abbiamo 96 di passaggio corto e 95 di lungo che è un upgrade bello bello potente rispetto alla carta precedente quindi gran passaggio anche in fase di impostazione pecca sempre quel 74 di agilità per Varane sulla carta ma vi assicuro che in game non lo sentite e infatti abbiamo anche 99 di reattività quindi vuol dire che insomma reagisce molto bene a quelli che sono i cambi di direzione dei nostri avversari poi abbiamo statistiche difensive che non vi sto manco qui a menzionare 96 di intercetto, 98 di mentalità difensiva, questo vuol dire autoblocco a profusione interventi molto precisi e puliti e infatti abbiamo anche 96 di forza e 90 di aggressività l'aggressività che è uno dei problemi di Varane infatti questo più 4 secondo me facendolo andare addirittura sul 90 potrebbe correggere un po' il tutto ovviamente parliamo di un giocatore che è incredibile e che costerà anche tanto e dovrà poi rispecchiare effettivamente questi upgrade in game altrimenti la spesa non varrà la pena andando avanti altro top player assoluto di questo gruppone è Marco Siorente l'unica pecca di questo Marco Siorente è il 3-3 compensata però da statistiche pazzesche rispetto alla sua ultima versione 86 abbiamo un più 3 in velocità, un più 4 di tiro, un più 3 di passaggio, un più 4 in dribbling, un più 3 in difesa e un più 4 in fisico arriviamo a 86 di accelerazione con 95 di velocità scatto, abbiamo degli ottimi passaggi agilità 83 quindi con le L2 si muove bene, c'è pure un bel capello ignorante la carta 91 di freddezza, 92 di controllo palla, 93 di reaction, stats difensive al top parametro 86 che sembra in realtà normale, modesto, però è abbassato dal 76 di precisione testa e dall'82 di scivolata che insomma sono parametri che non vanno a definire poi più di tanto il giocatore però abbiamo 90 di forza raga e 91 di aggressività, questo si attacca come una sanguisuga al corpo del nostro malcapitato avversario e tanto se ne libera quando va a sradicargli il pallone posizione centrale quindi non fa neanche di partenza all'esterno quindi è facilmente ibridabile veramente una bellissima carta questo Marcos Fiorente un altro giocatore molto interessante è Luisito Suarez 4-4 per gli amanti del genere, riceve rispetto alla sua versione flashback moments un più 11 in velocità, un più 4 in tiro, un più 4 in passaggio, un più 5 di dribbling un più 5 di difesa e un più 5 di fisico la cosa che a me preoccupa è che trattandosi di un giocatore di 1,82 con un body type si unico ma comunque abbastanza corpulento, mi spaventa quel 94 di forza che potrebbe andare ad appesantire un po' un giocatore che comunque ha 88 di agilità quindi neanche questo parametro è eccelso però questo è un giocatore che la porta la vede di Cristo, arrivato dinnanzi al portiere finalizza da paura, di fatti ha di potenza tiro 97, di finalizzazione 99 e anche discretamente veloce però a questo si ricollega anche il discorso body type per l'effettiva velocità abbiamo poi 99 di reazione, 98 di freddezza, 97 controllo palla, 97 di dribbling ottimi passaggi sia il corto che il lungo questo paradossalmente potrebbe essere anche utilizzato da COC visti gli ottimi passaggi e visto l'ottimo tiro soprattutto dalla distanza quindi se non lo si riesce a far rendere da punta sia singola che non attacca due visto magari appunto la sua pesantezza tra virgolette lo si può provare anche a smuovere più arretrato eviterei sia il COS che il COD o l'esterno perché insomma secondo me li potrebbe un po' risentire la mancanza di passo arriviamo a quello che è probabilmente il top player ragazzi di questo team Frankie de Jong, di che cosa stiamo parlando raga? io ho ancora le feels di quando lo trovai l'anno scorso non scambiabile questo è pazzesco, è pazzesco rispetto alla versione if gli hanno dato più 10 di velocità, 17 di tiro, 4 di passaggio, 6 di dribbling, 10 di difesa e 12 di fisico pazzesco, 4-4, velocissimo, gran tiro, passaggi della madonna che non ha senso statistiche di agilità, reazione, controllo palla, freddezza tutte al top statistiche difensive che non ve le sto manca a menzionare 97 di intercetto, mentalità difensiva 90, contrasti al top 90 di forza e 85 di aggressività per un giocatore che è 1,80m con workrate alto medio e in più è 4-4, quindi veramente questo l'anatema del centrocampo clamoroso può fare il cc, il cdc, il coc, veramente spaziale questo io non vedo l'ora di provarlo ed è uno dei giocatori che più mi entusiasma all'interno di questo gruppone di tozze della Liga Santander un altro sempre verde che quest'anno doveva per forza uscire è Karim The Dream Benzema, stagione pazzesca la sua, 4-4, 1,85, per lui un body type average quindi un po' robusto sotto questo punto di vista rispetto alla sua versione headliner abbiamo un più 5 di velocità, un più 2 di tiro un più 5 di passaggio, un più 4 di dribbling, un più 2 di difesa e un più 6 di fisico qui abbiamo un 94 di accelerazione, un 87 di velocità scatto quindi magari sul lungo un pelino potrebbe arrancare, pelino statistiche di tiro fuori dal senso, 94 di tiro e 98 di potenza, di finalizzazione passaggi al top, per cui ci ricolleghiamo a Suarez visto che non sono giocatori propriamente meta, visto che gli manca la 5 skill per fare la punta possiamo anche provare ad andarli a piazzare poi da c o c volendo a 89 di agilità ma 93 di forza, quindi occhio anche per il discorso altezza, body type non è che questa è una trottola insomma che si gira e si rigira su su stesso con tutta questa rapidità però è un giocatore molto molto interessante anche questo lui sicuramente lo andrò a provare così come è un giocatore molto interessante questo Kondé che però secondo me non ha ricevuto il boost che ci aspettavamo perché rispetto alla sua versione 84 prende un più 4 in velocità, un più 4 di tiro, un più 6 di passaggio un più 14 di dribbling, un più 4 di difesa e un più 5 per quanto riguarda il fisico è un 2-3 con medio medio 1,78 è discretamente veloce, ha 86 sia di accelerazione che è da velocità scatto ha un ottimo passaggio corto lungo un po' così e così ha un ottimo 81 di agilità e un 94 di reazione quindi per reagire ai repentini movimenti degli avversari statistiche difensive veramente buone e 85 di forza e 86 di aggressività ripeto, sto Kondé me l'aspettavo un po' più boostato un po' più boostato lo andrò a provare probabilmente in tandem con Varano comunque lo proverò sicuramente il bel capellone di Kondé lui comunque rischia di essere uno dei giocatori più interessanti sicuramente si va a mettere sopra i vari ermoso eccetera eccetera però da testare però Kondé, ribadisco, ottima carta all'interno di questo toz Lucas Vasquez versione 92 che io onestamente mi aspettavo da terzino abbiamo un 4-4 che rispetto alla sua versione 86 ha più 6 in velocità, più 9 di tiro, più 5 di passaggio più 6 di dribbling, più 15 di difesa e addirittura più 8 di fisico vediamo che ovviamente è un fulmine, ha un ottimo tiro ha dei grandissimi passaggi, ha delle bellissime stazze difensive abbinate anche a una bella agilità, equilibrio, reazioni eccetera eccetera è un 72 di forza con un 92 di aggressività quindi questo qui, paradossalmente, in un'epoca in cui si spostano tanti giocatori a sette d'intesa, questo secondo me può essere utilizzato anche terzino perché è veramente completo, anche alto alto come work rate ha 1,73 quindi ha anche un bel modo di portare il pallone per giocare lì sull'out, soprattutto se giocate magari con i terzini offensivi arriva in zona pericolosa e può anche diventare letale con i suoi inserimenti quindi non pensate che l'unico terzino all'interno di questo TOTS lì a destra sia Navas perché secondo me, ripeto, questo potrebbe essere un hidden gem spostato, sto Vasquez Yannick Carrasco, giocatore a sorpresa, non era stato tanto chiacchierato un 4-4 con 1,81 m, work rate basso alto è un body type lean, quindi sick e lung praticamente non proprio lung perché non è eigen lean, però comunque sick, diciamo più sick che lung rispetto alla versione 86 abbiamo un modesto più 3 di velocità un più 5 in tiro, un più 6 di passaggio, un più 6 di dribbling, un più 6 di difesa e un più 10 di fisico anche qua onestamente l'aumento statistico come potete vedere è modesto rispetto a questa versione che costa 50k e questa ne costa 500 secondo me un po' tanto scenderà alla fine dove sono avvenuti i boost più grossi? in difesa e insomma nel fisico, nella physicality quindi questa discrepanza di prezzo secondo me non è giustificata per quello che comunque è un buon giocatore che può farvi tranquillamente la fascia sia all'atto di sinistra che sull'auto di destra anche se visto che questo qui di piede dovrebbe essere destro, esatto messo sull'auto di destra sfruttate bene quello che è lo speed boost con l'L1 quindi occhio, a sorpresa, ripeto, sto Carrasco peccato per il prezzo perché l'aumento statistico, ripeto, rispetto a questa versione qua non è così clamoroso nelle statistiche che interessano a Carrasco quindi è un giocatore offensivo Gerard Moreno, 3-4 questo qui già vi parto tra virgolette col musone perché è 3 di skill e questo sapete che a me insomma mi fa storcere il naso sui giocatori offensivi ha normale alto di worklet, 1,80m, ha un po' di type average quindi anche lui è abbastanza corpulento rispetto alla versione 87 prende un più 4 in velocità un più 3 in tiro, 5 in passaggio, 5 in dribbling 3 in difesa e 4 in fisico come potete vedere ha 87-89 di accelerazione e velocità quindi neanche un parametro insomma così bustato, così grosso ha una buona finalizzazione con una buona potenza tiro degli ottimi passaggi è discretamente agile ma ha 84 di forza è un po' di type average quindi occhio a ciccio pasticcio che potrebbe essere un po' pesantino io non lo consiglio né da punta né da esterno perché con 3d skill è veramente la morte però boh io lo boccio non dico che lo boccio completamente però sapete che insomma quest'anno ci sono determinate caratteristiche che lo buttano un po' fuori dai radar sto moreno cartina interessante che ci guarda così potrebbe essere sto Fekir 4-4 che rispetto alla sua versione 88 menzione Toti prende più 6 in velocità più 4 in tiro più 4 in passaggio più 4 in delivering più 4 in difesa e più 5 in fisico anche qui parliamo di un giocatore che ha un po' di type stocchi quindi cicciottello paffutello e 92 di forza quindi occhio all'agilità di Fekir che in realtà non è 89 ma è influenzata è rapido ha una buona potenza tiro e finalizzazione ha degli ottimi passaggi ha una bella freddezza e una buona reazione insomma parliamo di un giocatore che visto così è completo io onestamente lo metterei o COS-COD oppure lo piazzerei da COC non me lo andrei a giocare né da prima né da seconda punta perché potrebbe risentire un po' dell'agilità però visto che insomma abbiamo parlato anche di Benzema e Suarez come possibili giocatori da prima a seconda punta questo qua più da seconda punta lo si può anche testare anche se ripeto non incontra proprio le mie preferenze in quel ruolo lì però Fekir insomma interessante così come non è per niente interessante sto Casemiro perché prende un più 9 in velocità un più 4 in tiro un più 3 in passaggio 4 in dribbling 3 in difesa e 3 in fisico però un giocatore con 72 di accelerazione di 1,85 arrivati a questo punto del gioco insomma c'è un Llorente che costa veramente cioè che a livello di overall è molto più basso di prezzo probabilmente non dico che saremo lì ma costerà poco in più Casemiro con tutto il bene che gli vogliono nonostante abbia addirittura alto alto quindi insomma abbia tutte le cose al suo posto c'ha 70 poi di agilità 73 di equilibrio insomma un tronco in mezzo al centrocampo che non fa bene a questo punto del gioco e non fa bene su FIFA 21 Jesus Navas invece è il terzino di ruolo di questo TOTS parliamo di un 4-2 quindi occhio a piede debole perché potrebbe cannare i passaggi passaggi che però sulla carta non sono male ha normale alto di normale alto di work rate parliamo di un giocatore short e lean è molto rapido ovviamente ha anche un discreto tiro è molto agile abbiamo un'ottima aggressività e delle ottime statistiche difensive questo qua come terzino può essere tranquillamente testato non mi chiedete di spostarlo a DC perché un metro e 72 questo in mezzo alla difesa prende tanti di quelle bullizzate che se le ricorda per sempre Gesù Navas quindi da terzino da provare però non vi fate venire strane idee così come io non mi farei venire grosse strane idee su Jordi Alba un giocatore di un metro e 70 considerando che il terzino prima o poi qualcuno lo deve rimanere a fare lui può dare fastidio a una carta che è uscita ora a Mendy in quelle che sono le varie discussioni su quello che può essere il miglior terzino della liga rispetto alla versione 88 prende un più 5 in velocità più 4 in tiro più 6 in passaggio 5 in dribbling 7 in difesa e 9 in fisico 95 di accelerazione e velocità scatto abbiamo un 93 di passaggio corto un 88 di lungo quindi perfetti per i filtrantoni molto agile molto aggressivo tanta roba le statistiche difensive ha anche un 88 di dribbling 89 di reactions che non fa mai male quindi questo qua sul lato di sinistra potrebbe essere molto molto valido ovviamente è un 3-3 quindi rispetto a Mendy che ha 5 di skill e 4 di vede debole però comunque da testare Jordi Alba visto anche quelli che sono i vari pacchetti che magari ci ritroviamo per le mani e che li possono droppare non scambiabili Oblak per me già prima di questa versione era uno dei migliori portieri del gioco se non il migliore quindi ce lo andiamo insomma ce lo andiamo a testare tranquillamente penso che continuerà su questa riga anche se i portieri sapete che sono la cosa più personale del mondo magari a voi Oblak non piace per tutti gli altri è un fenomeno a altri fa le papere a voi fa i miracoli quindi valutate non credo che andrà a costare tanto perché i portieri non costano mai tanto quindi valutate e arriviamo probabilmente al main event Marcello tanto chiacchierato tanto parlato Marcello quando esce quando non esce è uscito ok rispetto alla versione 83 prende più 11 in velocità 12 in passaggio prende più 5 in dribbling più 14 di difesa e più 13 di fisico oltre al 5 di tiro in 5-4 è un metro e 74 quindi non vi fate venire strane idee su mettere Marcello di cibi prego mi sento male ovviamente è veloce ha dei gran passaggi è agile ha un'ottima forza aggressività statistiche difensive che gli sono state boostate in maniera clamorosa quindi insomma sulla carta questo Marcello pare un ottimo terzino tocca vedere alla fine se tra lui e Mendichi la spunterà perché così secondo me sarà questo il ballottaggio parte un po' dietro alba in quelli che sono le mie previsioni gli exit poll tra virgolette però insomma secondo me Marcello è più hypato che altro però anche lui per la scienza ce lo andiamo a sbloccare lo proviamo vediamo insomma se effettivamente l'attesa ne è valsa oppure ci hanno semplicemente illuso con una carta che è solamente un brutto ricordo di quelle che erano le versioni degli anni passati quindi ragazzacci miei per questa preview dei Tots è tutto io vi ricordo che nei prossimi giorni usciranno le review dopo averli testati quindi potete anche seguirmi in Twitch tra sabato e domenica per vedere effettivamente in presa diretta come si comportano in descrizione tutte le info per le live giornaliere vi ricordo un commento un like iscrivetevi al canale un salutone al vostro Liberoschi e statemi bene ciao ciao